I comuni di Perugia ha bandito la procedura aperta di rilievo comunitario per l'affidamento dell'appalto integrato preordinato alla progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione della linea Bus Rapid Transit, l'innovativo sistema di trasporto elettrico che collegherà Castel del Piano con Fontivegge. L'avviso per l'affidamento è stato pubblicato qualche giorno fa in gazzetta ufficiale e la gara verrà affidata mediante una procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad oltre 74 milioni di euro. Con la pubblicazione in gazzetta delle bando di affidamento ha dichiarato il sindaco di Perugia Andrea Romizzi un nuovo passo in avanti è stato fatto verso le Bus Rapid Transit. Si tratta infatti del primo bando che il comune di Perugia pubblica a valere sui finanziamenti del PNRR. L'innovativo sistema di trasporto elettrico, dichiara ancora il sindaco, farà di Perugia una delle città capoluogo d'Italia più moderna e green dotata di un nuovo concetto di mobilità caratterizzato da un basso livello di emissione ed elevata capacità di trasporto. La linea BRT servirà i principali quartieri del quadrante sud-ovest della città. L'area produttiva di Santa Andrea delle Fratte e il polo ospedaliero ed universitario di Santa Maria della Misericordia collegandoli alla stazione ferroviaria di Perugia Fontivegge e tramite intermodalità con il minimetro al centro storico.